Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Non si placcano le polemiche riguardanti il nuovo regolamento emanato dal sindaco Bitonci che vieta l'accantonaggio, il bivacchi e l'occupare del suolo pubblico in modo inappropriato. Il primo cittadino di Padova oggi ha risposto alle critiche che gli sono state mosse. Nel regolamento ci sono delle parti che coincidono con quelle di altre città come Venezia, Vicenza e Treviso. Davanti alla possibile decisione dell'Associazione Antigone di impugnare il regolamento sono sereno. Il regolamento è contro il degrado, non contro la quotidianità delle persone. Bitonci ha poi annunciato che ci saranno delle nuove regole anche per gli artisti di strada, perché ha sottolineato era offensivo nei loro confronti confonderli nel degrado. Tragico incidente oggi a Vicenza. Un agricoltore vicentino di 69 anni è morto mentre stava lavorando sui campi, nella zona dei Colli Berici. Secondo una prima ricostruzione da parte dei tecnici dell'ospisa dell'Ast 16, l'uomo stava seguendo a piedi il trattore che rimorchiava il carro miscelatore guidato dal fratello. È stato proprio il fratello appena sceso dal mezzo ad accorgersi dell'uomo riverso a terra, in stato di incoscienza, all'invucatura del carro con il corpo bloccato, uno schiacciamento addominale che è stato fatale per l'agricoltore vicentino. E sono ben 424 morti in Italia, i morti sul lavoro, 36 solo nel Veneto. Ascoltiamo. Secondo un'indagine del curatore dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, nei primi otto mesi del 2014 sono morti sui luoghi di lavoro 424 lavoratori. L'aumento dei morti sui luoghi di lavoro rispetto ai primi otto mesi del 2013 è del 7,6%. La cosa che scomenta di più è che si parla sempre di cali incredibili tutti gli anni, mentre non è affatto vero se si prendono in considerazione tutte le morti sul lavoro che non sono solo quelle monitorate dall'Ina, l'Istituto di Stato, che registra solo i propri assicurati, e in tantissimi non lo sono. I morti sul lavoro non sono mai calati e questo nonostante si siano persi per la crisi milioni di posti di lavoro. In questo momento l'agricoltura con il 39,8% del totale ha un picco incredibile delle morti. Gli stranieri morti sui luoghi di lavoro sono il 10% sul totale e i romeni sono sempre i più numerosi, con il 45% delle morti tra gli stranieri. Le altre morti sono da ricercarsi nelle diverse attività, principalmente nel terziario. Il Veneto conta ben 36 morti dall'inizio dell'anno, mentre la provincia in cui il rischio di mortalità è più elevato del Triveneto è Bolzano, seguita da Udine, Venezia e Treviso. A livello regionale il dato peggiore invece giunge dal Trentino Alto Adige. Il settore più a rischio, oltre a quello dell'agricoltura, è quello delle attività manifatturiere, seguito da trasporti, magazzinaggio e commercio all'ingrosso. Maxifurto da 100 mila euro questa notte a Padova, in via dell'Ipodromo, svuotato un intero ricovero attrezzi di una tenuta. I ladri, arrivati probabilmente attraverso campi nel magazzino attrezzi, hanno rubato toserba, motazappa e molti altri macchinari, per un valore totale di circa 100 mila euro. Solo questa mattina è stato scoperto il furto ed ora la polizia sta indagando. E anche la villa imperiale di Galliera Veneta questa notte è stata ripulita. I ladri hanno sottratto dal bar affettatrice, televisori, ma anche bevande, caramelle e patatine. Preso di mira poi anche il calcio balilla, due distributori di palline per bambini. Il bottino più sostanzioso però è quello prelevato dal capanno degli attrezzi. Sono stati rubati utensili per la manutenzione dei campi da tennis, volley e beach volley. I danni sono di almeno 4 mila euro. Trenta giorni di tempo per dotare le barche veneziane di GPS. Ascoltiamo. Da questa mattina Venezia è scattato il conto alla rovescia per i proprietari di barche. Trenta giorni per notificare il comune che la propria imbarcazione è dotata di sistema GPS, o di quello ufficiale o di apparecchi simili e autonomi, considerati adeguati dalla società Venice SPA, che per conto del comune dovrà accertare l'idoneità degli apparati e la loro equivalenza rispetto al sistema consigliato da Caffarsetti. Se entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso non verranno rilasciati riconoscimenti di idoneità o di equivalenza in numero ritenuto sufficiente, dichiara in un avviso firmato questa mattina dalla dirigenza del settore mobilità e trasporti del comune, provvederemo autonomamente a individuare soluzioni idonee. Il comune, dopo le polemiche sul traffico acqueo in Canal Grande, che periodicamente hanno raggiunto le pagine dei quotidiani, vuole rendere operativo il sistema il prima possibile, mettendo in condizione la centrale operativa di controllo della Municipale di ricevere già un numero sufficiente di coordinate delle imbarcazioni. Richiesta anche l'installazione di telecamere sui vaporetti. È il segretario del Sindacato del Lavoro privato, Gian Pietro Antonini, che in una lettera chiede un incontro urgente al commissario straordinario Vittorio Zappalorto. Chiediamo l'introduzione di piccole telecamere, strumenti in grado di ricostruire in maniera oggettiva la dinamica di eventuali incidenti e la situazione del traffico momento per momento, attorno ai mezzi pubblici in servizio. Potrebbe agevolare le manovre dei piloti a CTV, dando loro una visibilità anche nei punti più morti. Paura questa notte a San Donà di Piave. Quattro auto dei vigili urbani sono state distrutte. Le vetture di servizio della Polizia e degli uffici comunali sono bruciate in un rogo di origine quasi sicuramente dolosa. È stato infatti trovato un buco nella ricensione dell'aria nella quale erano parcheggiate, attraverso il quale attorno alle 4 di questa mattina sarebbero entrati dei piromani. Scoperto a Venezia un laboratorio italiano che produceva merce contraffatta delle più ricercate, griff di moda. Sentiamo i dettagli. Venezia e le spiagge più frequentate del Veneto sono in base d'abbigliamento tarocco. A primo impatto, ma anche guardandolo con attenzione, sembra in tutto e per tutto originale. Marchi famosi come ad esempio Gucci, Chanel e Fendi, venduti però a poche decine di euro, naturalmente senza nessun scontrino fiscale, contento il venditore, contentissimo l'acquirente. A essere meno felici però sono i contribuenti, visto che si alimenta un mercato illegale che toglie il lavoro pulito e che in più si tiene alla larga del fisco, a differenza dei concorrenti onesti. Un circolo vizioso cui hanno tentato di mettere i bastoni tra le ruote gli agenti del gruppo di Venezia, della Guardia di Finanza, sequestrando due opifici nel Miranese. Hanno risalito via via la piramide illegale, partendo dalla base, un sequestro di merce contraffatta in laguna, per poi arrivare alla cima, dove materialmente la merce veniva prodotta. Una delle novità sta anche nel fatto che in questo caso i laboratori requisiti non erano gestiti da cinesi, come solitamente si pensa, bensì da due italianissimi artigiani di età tra i 50 e i 60 anni, che lavoravano anche in maniera ufficiale, come contoterzi, per altre industrie del distretto calzaturiero. Di commesse ne avevano, e tante, ma avevano scelto di prestare il fianco anche alla costola illegale del settore. In un campannone veniva progettato il prodotto, mentre nell'altro veniva assemblato e confezionato, con tanto di scritta Made in Italy. All'interno degli opifici, uno dei quali, completamente sconosciuto al fisco, macchinari costosi e operai che lavoravano in nero, il tutto senza tener conto delle più elementari norme di sicurezza. Al termine delle operazioni, oltre al sequestro, i due artigiani sono stati denunciati per produzione di merce contraffatta. Ma il peggio, forse per loro, deve ancora arrivare. Nelle prossime settimane saranno eseguiti accertamenti fiscali che potrebbero rivelarsi sanguinosi. La Procura di Padova ha indagato l'ex delegato pontificio Monsignor Francesco Gioia, di 76 anni, per un presunto abuso edilizio effettuato a Padova, a pochi passi della Basilica di Sant'Antonio. Il pubblico ministero è iscritto nel registro degli indagati per violazioni e delizie anche l'architetto Gennaro di Lascio, 49 anni, di Frascati, e l'impresario Gianluca Campagna, 45 anni, di Roma. Il presunto abuso riguarderebbe, secondo l'accusa, la realizzazione di cinque mini appartamenti nella zona tra la Basilica di Sant'Antonio e l'Orto Botanico. I fatti risalgono al 2011, quando l'ex casa del custode del santo, nonché parte integrante del complesso, era stata trasformata in cinque appartamenti dati in affitto, in apparente violazione al regolamento comunale e ai vicoli monumentali. Protesta di 50 agricoltori del Padovano. Le mele ce le pagano due centesimi. È una vergogna. Sentiamo. Ci pagano le mele due centesimi al chilo? Tanto vale buttarle giù. L'hanno fatto davvero una cinquantina di imprenditori agricoli della bassa Padovana. I produttori della zona si sono ritrovati nello stabilimento agricolo del signor Salandin a Merlara ed hanno distrutto un intero raccolto di mele, affermando, tanto non valgono nulla. Si tratta di mele quotate in media due tre centesimi al chilo, denuncia col diretti Padova, promotrice dell'iniziativa. Con questi prezzi, gli agricoltori non riescono a coprire nemmeno un terzo della spesa di raccolta, quindi le mele ormai mature vengono lasciate sugli alberi. È uno scandalo se consideriamo anche il danno aggravato dall'ingresso indiscriminato e senza controlli di frutta straniera. L'anno scorso le mele andavano a 13-14 centesimi al chilo, con punte anche di 25 per le prime scelte. Quest'anno le condizioni meteo poco favorevoli hanno messo in ginocco gli agricoltori. E il discorso vale per l'intero settore ortofrutticolo. In quest'estate si sono salvati solo i menoni, mentre ci sono state pesanti perdite per mele, pere e pesche. Col diretti, inoltre, afferma al supermercato un chilo di mele non costa mai meno di 2 euro. A rimetterci sono solo e sempre gli agricoltori. Il Comune di Verona, con l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali, ha indetto un concorso internazionale di architettura per progettare una possibile copertura dell'Arena di Verona. Un'idea maturata per fronteggiare alla discontinuità della stagione operistica. A causa della pioggia, infatti, ben 60 opere su 100 in programma sono saltate. Il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha annunciato il bando di concorso si farà entro fine settembre. Unicredit spenderà 10 milioni di euro per finanziare i lavori. Inoltre ha giunto un noto imprenditore veronese si è detto disponibile a finanziare la copertura. Alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia arriva la musica. Il terminal primo in Italia verrà ospitato United Street Pianos Italia, ovvero un pianoforte posto nell'atrio che sarà a disposizione di viaggiatori, turisti e cittadini. Si tratta di un pianoforte verticale che, oltre ad arricchire gli ambienti della rinnovata stazione ferroviaria, sarà a disposizione di tutti coloro vorranno suonarlo. Il nuovo progetto di grandi stazioni vuole consegnare alla città la bellezza di un'arte antica in uno spazio insolito, non in un teatro o in un'arena, ma bensì in una stazione. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni di domani. Il maltempo non dà tregua, rovesci e temporali saranno possibili in modo sparso lungo il corso di tutta la giornata. Per questa sera è tutto, non ho ulteriori informazioni, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento a domani. Buona serata. Grazie a tutti.